Turno di riposo forzato domenica prossima a Meryl Gela. La squadra biancazzurra non scenderà in campo al Vincenzo Presti contro la Vibonese in merito alla vicenda che interessa proprio il team Calabro. Infatti al momento attuale pende un ricorso alla FIGC legato al ripescaggio in Serie C della società preseduta da Giuseppe Caffo. Dunque niente calcio domenica prossima in città. Il Gela stava correndo a mille dopo le due vittorie di seguito e fermarsi proprio adesso non è sicuramente un vantaggio. Non è bello fermarsi anche perché veniamo da una striscia di risultati positivi. Però non possiamo farci niente. C'è questo ricorso della Vibonese. Facciamo di necessità virtù e cercheremo in questa tosta di recuperare qualche ragazzo che abbiamo acciaccato. Il turno di riposo forzato permetterà però di recuperare al meglio Cosenza e Bonaffini alle prese con alcuni problemi fisici. Bonaffini sicuramente sarà disponibile. Valuteremo la sua condizione così come quella di Cosenza perché Cosimo lo valuteremo con tutta calma. Vediamo se possiamo recuperarlo. Però è chiaro che se non sarà al 100% non abbiamo nessuna intenzione di rischiarlo. La sosta ci consente anche di far acquistare un po' di condizione a Davide Moi che è soltanto da una settimana, dieci giorni con noi. Insomma cercheremo di mantenere alta la concentrazione. Tra due domeniche, dunque il 24 settembre, il Gela giocherà a Messina. Un derby particolarmente sentito da entrambi gli schieramenti. Due club importanti, Gela e Messina io credo che siano due tra i club più importanti dell'isola. È una partita importante ma chiaramente è una partita come le altre. È inutile, tutte le partite sono difficili, tutte vanno affrontate con la stessa determinazione. È inconvutabile che incontriamo una grande squadra costruita per cercare di vincere il campionato. In conclusione le chiedo, direttore, ma si aspettava un Gela primo in campionato dopo due giornate? Le prime giornate sono sempre interlocutorie. Onestamente ero consapevole, siamo tutti consapevoli di avere una buona squadra. Essere primi in classifica ci rende orgogliosi, però ripeto, siamo ancora alla seconda giornata di campionato, quindi è inutile fare voli pindarici. Tutti i risultati che abbiamo ottenuto sono frutto del grande lavoro dei ragazzi e dello staff tecnico e ci consentono di lavorare in serenità, in armonia.